Ragazzi sono in aeroporto con Diego, Silva e Silvia, sono 2,5k ragazzi. Incontri all'aeroporto. Incontri all'aeroporto. Allora Diego di dove sei? Io sono di Parma, per 17 anni ho fatto il consulente marketing. Per le catene di hotel? Sì, infatti parlavamo di hotel e provate a immaginare che dopo un anno mi ero licenziato da tutta questa manfrina e oggi sono a Getty 2.5 e incredibilmente ho il mio sponsor dietro che è la mia compagna. Che faceva anche lei? Che anche io lavoravo nel settore del turismo, per fortuna non più, visto come sta andando. Tu lavoravi per una catena di hotel e avevo bisogno di un extra per pagarmi i mutui dopo che mi ero separata con due figli da mantenere e l'extra poi è diventata una carriera. E adesso anche tu Getty, no? Esatto. Da quanti anni Getty dentro? Io da 7, più o meno 6-7 anni. In quanto tempo si è diventato Getty? Quest'anno se non sbaglio? No, Getty 2.5 l'anno scorso. Sì, Getty dopo circa tre anni, lei dopo due anni e mezzo e Getty 2.5 dopo cinque anni. E ora state andando a? Andiamo a Palermo. Dov'avete? Che hanno dei Getty, no? Come si chiama la Getty tua? Simona Formica. Quindi provate a immaginare un'attività che da Parma nasce e sboccia in altre città. Quasi per magia. Ragazzi, vi ho detto tutto. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.